Con questo video rispondo alla domanda di Andrea Boccuzzi e di un altro ragazzo che mi ha scritto su YouTube. Andrea Boccuzzi mi chiede qual è la facoltà che bisognerebbe fare per essere poi un procuratore agente sportivo. Ti rispondo che non c'è una facoltà precisa che bisogna fare, assolutamente. Le due cose che ti aiutano è avere una minima cognizione di ciò che è un contratto, quindi per assurdo chi ha fatto giurisprudenza può essere avvantaggiato per tanti dettagli, ma ti posso anche dire che chi ha avuto degli studi economici e magari di fiscalità può essere avvantaggiato per altri dettagli, ma su tutte quante la cosa che più ti avvantaggerà in questo lavoro è sicuramente la conoscenza di quante più lingue possibili, eccezione fatta per l'inglese perché bisogna dare per scontato una conoscenza almeno scolastica dell'inglese per potersi dimenare in Europa e nel mondo, però insomma avere un bagaglio culturale che prevede una conoscenza di un altro paio di lingue, magari lo spagnolo o il francese, per non parlare del vantaggio che si avrebbe nel sapere qualche lingua asiatica o ancora più particolare, insomma questa è la vera ricchezza che può avere un procuratore. Quindi quello che ti consiglio è concentrati sulle lingue, a prescindere dal tuo percorso di laurea se già ne hai uno, se sei un ragazzo che pensa di iscriversi all'università, però diciamo il vero valore aggiunto può essere la conoscenza esatta di una lingua. A presto!